TEP, lavoratori in sciopero il 19 settembre, 4 ore di stop per il rinnovo del contratto aziendale. A seguito dell'indisponibilità mostrata al tavolo della trattativa sul rinnovo del contratto aziendale da parte della dirigenza, i lavoratori di TEP SPA incroceranno le braccia per 4 ore il prossimo venerdì 19 settembre, dopo che il tentativo di conciliazione messo in atto presso la prefettura di Parma si è concluso negativamente. È quanto annuncia in un comunicato il sindacato CGL. La RSU di TEP, unitamente alle segreterie provinciali di CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL, si legge nella nota, avevano formalizzato la proclamazione dello stato di agitazione già lo scorso 29 luglio. Non essendo però intervenute novità utili alla ripresa della trattativa, lo sciopero programmato per il 19 settembre interesserà il personale movimentato urbano ed extraurbano dalle ore 8.30 alle ore 12.30, garantendo solo i servizi minimi previsti per legge. Mentre il personale di impianti fissi, uffici e biglietterie si fermerà le prime 4 ore di ogni turno, fatta salva la presenza del personale indispensabile a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio nelle fasce previste dagli accordi vigenti. Già lo scorso 8 agosto, in una conferenza stampa, i rappresentanti sindacali avevano fatto il punto della situazione. Abbiamo fatto proposte che potrebbero portare benefici in termini di svolgimento e organizzazione del servizio, con un risparmio significativo di 350.000 euro, come certificato dalla stessa TEP, avevano dichiarato. Questo per noi è il punto massimo, se l'azienda vuole di più vorremmo che siano definiti gli obiettivi che la società indende darsi, obiettivi che non possono essere solo la riduzione dei costi del lavoro. TEP è competitiva se oltre alle questioni di bilancio guarda anche al tema della riorganizzazione, sostengono i sindacati. Non c'è invece un piano di rilancio, sono previste ulteriori riduzioni del servizio togliendo vetture e si vedono molti sprechi con tanti soldi spesi in consulenze.